Si chiama Clarissa Ward, una giornalista della CNN, la quale pensate che ha in 24 ore di tempo cambiato il suo abito, mettendo un abito completamente diverso rispetto a quello che indossava prima. Infatti, nell'ultimo collegamento, prima dell'ingresso dei talebani nella capitale afghana, ossia Kabul, la giornalista in questione americana aveva i capelli raccolti una sciarpa rossa rotata sulla giacca dopo 24 ore di tempo. Con talebani, chiamiamolo nella scena principale di Kabul, la donna era in strada con il volto coperto dall'Ihab, quindi praticamente quasi tutta coperta. Alle spalle, ovviamente, la presenza di questi uomini completamente armati. Insomma, è una differenza pazzesca, emblematica, alzardabile e palese quella che c'è stata tra il prima di questa donna, Clarissa Ward, e il donna, prima capelli raccolti, abbastanza scoperta, tra virgolette, dopo completamente coperta con tanto di Ihab indossato da questa donna. Una giornalista americana della CNN. Grazie a tutti i cari utenti di Uyub, grazie per la visione, iscrivetevi al canale e al rato italiano, commentate. Un saluto regalo e al prossimo video.